Sì, mi sono chiarita con tutti quanti, penso di essermi, di aver dimostrato di essere una persona non come la prima sera, come ho dimostrato con la rabbia, non so, ditelo voi. Ho cercato sempre di essere utile al gruppo, di essere calma, meno irrequieta e c'erano solo delle cose che poi mi hai spiegato Ilari, come mi ha spiegato Alvin, e chiedo scusa anche a te Alvin, non c'è stata occasione, e che il reality comincia quando arriviamo qua, quando scendiamo qua, non dall'elicottero che sarei scesa giù, sono scesa da una barca e quindi dimentico tutto quello che c'è stato prima. E quindi niente, io con loro non ho niente, non credo che loro abbiano qualcosa di bisogno. Va bene, allora passiamo a Carmen e Alessandro, che sono l'altra coppia di nominati, volevo sapere, Alessandro tu ti senti penalizzato da Carmen? E poi mi dovete dire, se avete il coraggio, perché Carmen l'ha chiesto, di dire perché la nominate, perché la volete buttare fuori. Lei sulla clip ha detto, voglio che mi dicano il motivo. Ovviamente se posso, Ilari, questo lo vorrei tanto sapere, però io confesso una cosa, che comunque diciamo che ho un carattere un po' particolare, quando soprattutto ho la fame, e io non lo dico, perché altrimenti cadrei in provocazione un'altra volta, avendolo già fatto all'isola, no? Dei famosi, ho fame, ho fame, ma io lo direi in continuazione, ho fame, ho fame, ho fame, per cui, no, per davvero ragazzi, ve lo sto confessando, io sto morendo di fame, in questo momento, io sto morendo di fame, ma lo sappiamo, ma lo sappiamo. Siccome me lo tengo dentro, in qualche modo quel carattere esplode, fa qualcosa che magari non dovrei fare. Ecco, la domanda è la bella.